La nostra festa è l'ottomorzo e la festa delle donne. Festa della donna. Assolutamente la gardenia. Assolutamente gardenia. Regaliamo sicuramente la gardenia. Gardenia, gardenia, gardenia. Per aiutare la ricerca sulla sclerosi multipla. Contro la sclerosi multipla. E per le donne bisogna comprare la gardenia. Per sostenere la lotta alla sclerosi multipla. 8 marzo, gardenia, gardenia, gardenia.